Nei rilievi ornamentali di cui abbiamo ora parlato, gli storici indicano di solito l'estremo punto della degradazione della cultura artistica. Ne può negarsi che, almeno in quanto constatata l'estinguersi di un'altra tradizione, il giudizio sia fondato. In questi e altri documenti, anche pittorici, si può tuttavia scorgere i germe di possibilità nuove che si svilupperanno nel IX e nel X secolo e sbocciare poi nella nuova cultura artistica dell'Occidente, il Romanico. I rozzi lapicidi dell'VIII secolo incidono faticosamente in trecci lineari e talvolta animali simbolici e perfino mostruose figure umane. Questi segni e simboli hanno perduto, con la bellezza formale, anche i significati originari. Inutile dunque cercare di giudicare il segno o il simbolo formale, in rapporto al suo contenuto concettuale, al quod significatur. Tuttavia, possiamo stabilire, tra quei manufatti, differenze di valore. Osserveremo dunque che, in certi elaborati, l'immagine è spesso la stessa immagine di linee intrecciate, si dà con una chiarezza e una forza che manca in altri. Per esempio, è intagliata con maggior sicurezza, spicca più nettamente sul fondo, le linee curve sembrano animate da un'interna coerenza di forza. Sono qualità inerenti al fare, all'intelligenza o simpatia con cui è sentita la materia, al modo di operare in essa con scalpello e mazzuolo. Giudichiamo dunque l'immagine nella sua nuda realtà di cosa, il quod significat, e non più il quod significatur. Si dirà che, così facendo, giudichiamo soltanto il lavoro dell'artigiano. Appunto, ma il fatto nuovo e importante è che proprio questo lavoro viene ora proposto come valore e che il fare un lavoro e il farlo bene viene ora indicato anche sul piano religioso come il migliore impiego dell'esistenza e la via migliore per la salvezza spirituale. È quello che affermano per primi i monaci benedettini. Per loro il lavoro è anche preghiera, modo di offrire a Dio la realtà della propria esistenza moralmente vissuta. Il loro motto è ora et labora. Nei loro monasteri tutti lavorano a livello degli alti studi filosofici e filologici o del modesto artigianato o ancor più umile lavoro agricolo. Il monastero, con la sua distribuzione accuratamente studiata di scrittoria, officine, magazzini e abitazioni accanto alla chiesa e alla sala capitolare, è il primo schema della nuova organizzazione urbana e concorrerà fortemente a creare la città romanica, intesa come un'entità culturale, morale, produttiva, capace di amministrarsi in modo autonomo. Ora sappiamo che quella tecnica dei rilievi ornamentali può certamente essere rozza, ma in qualche caso è invece primitiva. È il sermo humilis da cui nascerà il voligare, l'inizio della nuova tecnica che sarà una componente essenziale della cultura occidentale in formazione. Questa tecnica o queste tecniche sono indubbiamente nuove allo stato nascente e certamente non hanno alcun rapporto vitale con le tecniche raffinate del mondo bizantino. Ma affinché una tecnica si inserisca in un processo e in un contesto di cultura, deve definirsi storicamente rispetto al passato. Infatti, le nuove tecniche non rifiutano affatto il grande lascito culturale bizantino e andando più indietro nel tempo classico lo recuperano, lo assumono come un fondamento o un patrimonio di esperienza da impiegare attivamente nel conseguimento del fine a cui tendono. Con il rifiorire degli interessi culturali, l'arte del mondo orientale non si ritira o non subito dall'Occidente, vi si diffonde anzi maggiormente, ma muta il modo di ricevere e interpretare i suoi messaggi, di recepirla. all'Occidente, che esistono all'Occidente, che esistono che esistono i suoi messaggi, come un'efficacia, che esistono si tratta i suoi messaggi, esistono e i suoi messaggi. Grazie a tutti.